AIPO, Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, la cui sede è a Milano, è nata con lo scopo di promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale nel campo della pneumologia, mediante iniziative quali convegni, corsi e congressi, utilizzo di tecnologie informatiche al fine di promuovere la salute respiratoria dei cittadini. L'AIPO, l'Associazione Italiana Pneumologi Ospedaliere, è una delle società scientifiche che opera nel campo della pneumologia e quindi delle malattie dell'apparato respiratorio oramai da molto tempo, che ha tra le sue finalità quelle che sono le finalità previste per una società scientifica, cioè di svolgere attività di ricerca, attività formative nel campo delle malattie dell'apparato respiratorio e anche attività di interlocuzione con le istituzioni per essere in grado proprio di proporre modelli organizzativi che in un momento sicuramente difficile dal punto di vista di risorse per il sistema sanitario nazionale sono quelli più funzionali a garantire praticamente l'obiettivo di salute respiratoria per i molti pazienti che sono affetti da patologie dell'apparato respiratorio. Le patologie respiratorie rappresentano oggi la terza causa di morte in Italia. Patologie croniche come asma bronchiale, le neoplasie e i disturbi respiratori del sonno. I recenti dati della Società Europea di Pneumologia testimoniano come le malattie respiratorie siano già attualmente tra le prime cause di morte nel mondo occidentale. Noi abbiamo decine di migliaia di ricoveri, anzi più di 100.000 ricoveri all'anno per insufficienza respiratoria che spesso sono legate a complicanze delle patologie respiratorie croniche. Quindi un costo veramente elevato, un carico assistenziale molto alto per le malattie dell'apparato respiratorio. E quindi tutto quello che si fa in termini di prevenzione di queste patologie, quindi cercando di intervenire precocemente. Oggi abbiamo armi farmacologiche, riabilitative che consentono di intervenire. Le fasi più precoce della malattia sicuramente hanno un effetto estremamente favorevole sulla riduzione poi dei costi complessivi del sistema. L'AIPO promuove la sua attività anche attraverso la pubblicazione di Rassegna di patologia dell'apparato respiratorio, la rivista ufficiale dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, AIPO, e che come tale è rivolta a tutti i soci interessati al continuo aggiornamento critico delle proprie conoscenze scientifiche e cliniche.